Ben tornati a FAQ, Frequently Asked Questions. E' giunto il momento della Law FAC di oggi. Si tratta della domanda di Davide, che però potrebbe anche essere quella di Stefano, Giovanni, Alessio. Chissà quanti altri di loro si staranno chiedendo la stessa cosa di Davide. E sentite qui. Ciao ragazze, qual è a parte il preservativo e il contraccettivo migliore che dà meno effetti collaterali? Ottima domanda. Sentiamo quindi cosa ci risponde la nostra esperta, la professoressa Alessandra Grazetti, ginecologa e sessuologa. Professoressa, lei la parola. Il contraccettivo giovane per definizione è la pillola contraccettiva oppure anche il cerotto contraccettivo o l'anello vaginale. La pillola contraccettiva, in particolare una che contiene drospirenone, è la più amata dalle ragazze. Perché? Perché questo drospirenone è un progestinico, che sarebbe il marito dell'estrogeno contenuto nella pillola, che ha un'azione lievemente diuretica e quindi aiuta le ragazze, che sappiano anche stare in forma, a controllare la cellulite, la ritenzione idrica e quindi a sentirsi molto bene. In più questo drospirenone aumenta nel nostro cervello le molecole della gioia e contrasta la tendenza ai disturbi premestuali, quindi il nervosismo, l'irritabilità, il gonfiore, la ritenzione idrica, la voglia di mangiare cibi dolci o salati. Quindi è un grande amico della forma fisica e psichica e quindi noi riteniamo che sia la pillola migliore per una ragazza che vuole essere sicura al 100% con la contraccezione, ma anche sentirsi molto bene in forma tutti i giorni del mese.